Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala, ancora cielo grigio sulla Liguria nonostante una monta anticiclonica che lascia comunque la nostra regione esposta a correnti umide meridionali. Il dettaglio oggi giovedì 22 dicembre cielo grigio con possibili deboli precipitazioni sparse, locali schierite sull'estremo ponente, venti in prevalenza meridionali deboli, rinforzi a moderati a Levante, mare mosso in aumento a molto mosso in serata, temperature massime in locale aumento lungo la costa tra 12 e 16 gradi nelle zone interne tra 9 e 14 gradi, domani venerdì 23 dicembre prevalenza di cielo molto nuvoloso coperto con deboli precipitazioni sparse, locali e temporanei schierite più probabili sull'estremo ponente, venti in prevalenza meridionali deboli, rinforzi fino a moderati, mare fino a molto mosso per onda di Libeccio, temperature minime in locale diminuzione lungo la costa tra 9 e 12 gradi nelle zone interne tra 6 e 9 gradi, massime quasi stazionarie lungo la costa tra 13 e 16 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi, dopodomani sabato 24 dicembre mattinata in prevalenza grigia con possibili deboli piogge sparse, qualche schierita in più dal pomeriggio pur permanendo addensamenti consistenti sul centro della regione, venti deboli in circolazione ciclonica e rotazione settentrionale in serata, mare molto mosso per onda di Libeccio, in calo in serata, temperature pressoché stazionari o in aumento poi in calo dalla notte, minime lungo la costa tra 10 e 12 gradi nelle zone interne intorno 7 e 8 gradi, massime lungo la costa tra 15 e 17 gradi nelle zone interne tra 11 e 15 gradi, è tutto seguite la giornata su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store a risentirci!